e ben ritrovati in questo lunedì 8 aprile nella rassegna stampa di tv 12 addentriamoci dunque ora nelle pagine dei quotidiani locali partiamo dal messaggero veneto e allora abbiamo visto sfogliato la prima pagina addentriamoci nelle tematiche di primo piano con gli esiti del turismo invernale le i dati che sono proposti dunque oggi dal messaggero veneto piste da sci bene lo zoncolan meno piancavallo presenze totali in calo dell'1,6 per cento rispetto al 2023 in 820 mila negli impianti dati positivi a tervisio e a sappada se la nevea aperta fino al 14 aprile allora leggiamo una parte di questo articolo di mattia pertoldi la stagione dello scinfrio di venezia giulia va in archivio con numeri positivi e sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno il meno 1,6 per cento di presenze sulle piste per un totale di oltre 820 mila appassionati peraltro ancora passibile di miglioramento come detto tenendo in considerazione come se la nevea si potrà sciare fino a domenica 14 aprile rappresentano un risultato senza dubbio soddisfacente tenendo in considerazione anche le condizioni meteo che ci sono state nella stagione più di così credo fosse onestamente difficile fare commenta l'assessore al turismo l'assessore regionale Sergio Emilio Bini anche in virtù del fatto che a causa del maltempo dice appunto abbiamo dovuto rinunciare a un gran numero di ecceatori durante l'epifania a due giornate a carnevale a quattro weekend tra febbraio e marzo aver chiuso sostanzialmente alla pari con la stagione passata spiega l'assessore regionale cioè quella migliore di sempre è motivo di grande soddisfazione si parla dunque del record dello zoncolan perché a colpire maggiormente i tradati in possesso di promotorismo fvg è senza dubbio l'andamento che c'è stato per lo zoncolan sul kaiser in particolare come appunto chiamato dagli appassionati delle due ruote nel corso di questa stagione si sono accumulati 250 mila primi ingressi un totale questo che non soltanto vale un aumento del 6,4 per cento sul 2022 2023 quando le presenze furono pari a 235 mila 329 ma conferma pure un trend in costante crescita nell'ultimo decennio tranne per due stagioni di cui una segnata dal covid per certificare l'esploit di quella che è diventata si spiega la principale meta in Friuli Venezia Giulia per gli amanti dello sci tra l'altro basterebbe ricordare che nel 2014 2015 i primi ingressi furono soltanto tra virgolette 178 mila e 59 cioè oltre 70 mila in meno rispetto a quelli di questa stagione ma poi ovviamente come detto anche nel titolo ci sono altre località che hanno registrato risultati positivi molto bene ad esempio ha fatto Sappada dove il confronto con i 12 mesi precedenti parla di un delta positivo del 6,7 per cento il migliore in percentuale di tutto il Friuli Venezia Giulia e un balzo da 79 mila e quasi 900 sciattori a 85 mila 259 e poi ovviamente ci sono tante tante informazioni che potete comunque vedere approfondire anche in questa tabella con ovviamente tutte le varie località e confronti tra gli anni rispetto ai vari risultati positivi mai così tanti appassionati dunque per lo Zoncolan il dato migliore della nata lo ha registrato il Kaiser come detto così come soprannominato in Val Canare numeri in leggera crescita nel Tarvisiano i primi ingressi di quest'anno sono risultati in crescita dell'1,7 per cento rispetto alla scorsa stagione è interessante notare peraltro si scrive sul messaggero Veneto come Zoccolana e Tarviso siano avvalsi da soli poco meno del 60 per cento delle presenze totali e poi nelle Dolomiti migliore incremento della regione Sappada ha fatto davvero molto bene il confronto con i 12 mesi precedenti parla di un delta positivo l'abbiamo visto del 6,7 per cento il migliore dunque in percentuale di tutto il Friuli Venezia Giulia ancora andiamo a vedere questi richiami decremento dopo due buone stagioni per quanto riguarda il Pordenonese l'andamento peggiore della stagione risulta quello di Piancavallo dopo due stagioni molto positive quella 2022-2023 da record il Polo Pordenonese ha chiuso l'annata con 143.150 primi ingressi in calo del 14,2 per cento diminuzione a doppia cifra per quanto riguarda il compressorio forni di sopra Sauris il dato finale parla di un calo del 10,6 per cento in questo caso e poi per Stella Nevea ancora c'è la possibilità di usufruire degli impianti per un'altra settimana poi sarà ovviamente fornito il bilancio rispetto anche a questa a quest'area il confronto tra questa e la scorsa stagione di Stella Nevea porta a una perdita due cifre degli sciatori ma il numero verrà sicuramente migliorato dal fatto che l'unico polo ancora aperto e qua ci sono appunto ritratti come si spiega su Messaggero gli sciatori proprio della giornata di ieri e lo resterà dunque aperto fino alla prossima domenica. Sulla neve in spiaggia insolita la domenica ad aprile si scrive ancora sul Messaggero Veneto a Lignano a Grado molti hanno scelto il litorale tante persone con i primi bagni oppure le passeggiate fra negozi e bar. Tanti in coda alla seggiovia Gilberti sulle montagne di Chiusaforti come detto anche qui è ancora possibile sciare e poi tanta gente insomma dappertutto tra mare e montagna vediamo appunto le diverse immagini con gente anche in costume nelle varie località balneari invece gente ovviamente anche sciatori ancora dove possibile le prese ovviamente con gli sci con le seggiovie e le code che appunto vediamo ritratte. Ma parliamo anche di Papa Francesco atteso nel nord est il Papa a Trieste e il titolo le tappe. Il 7 luglio l'arrivo poi un incontro in centro città le 11 messe in piazza unità davanti a 10.000 persone. Alle 8 atterrerà l'aeroporto di Ronchi Papa Francesco da lì a luglio lo spostamento in auto elicottero. Al centro congresso si saluterà i delegati della cinquantesima settimana sociale dei cattolici e ovviamente in moto la macchina organizzativa come si fa presente e con un'attenzione molto alta sul fronte e sicurezza. L'arrivo in città ci sarà già intorno alle 8 e 30 con la visita ai delegati della cinquantesima settimana sociale dei cattolici d'Italia al Generali Convention Center. Poi l'incontro in una piazza cittadina è in fase di valutazione quella di Sant'Antonio, scrive Laura Tonero, con alcune realtà rappresentative e infine alle 11 la Santa Messa in piazza unità. È iniziato ad elinearsi il programma quindi della prima visita a Trieste di Papa Francesco fissata per il prossimo 7 luglio. Una macchina organizzativa molto attenta ai dettagli tenendo in considerazione anche lo stato di salute del pontefice che potrebbe far emergere qualche esigenza in più. L'impiatto portante dell'agenda di quella giornata è comunque dunque pressoché definito mentre il piano della sicurezza verrà esaminato in prefettura nell'ambito appunto del comitato per l'ordine e la sicurezza. Qui si ricordano appunto i partecipanti, 1500 al raduno rispetto a questa cinquantesima settimana sociale dei cattolici in Italia che avrà come titolo al cuore della democrazia partecipare tra storia e futuro ed è organizzata dalla Chiesa Cattolica Italiana. Trieste vedrà dunque la partecipazione di oltre 1500 delegati e iniziative aperte ai cittadini. È un appuntamento si spiega in cui si incontrano i cattolici attivi in tutti gli ambiti della società per condividere esperienze e prospettive anche coordinare le attività lanciando proposte per il futuro del paese. In aprile e maggio la presenza del Papa a Venezia e a Verona, da qui all'estate infatti il Santo Padre ha in calendario altre due visite nel nord-est. Il 28 aprile sarà per la prima volta a Venezia mentre il 18 maggio a Verona. A Venezia farà tappa al padiglione della Santa Sede alla sessantesima esposizione internazionale d'arte e sarà la prima volta di un Papa alla Biennale. Poi sarà in visita al carcere femminile della Giudecca e incontrerà la comunità ecclesiastica del patriarcato di Venezia. E qua si ricorda Papa Uotiwa alla visita nel 1992 e Papa Francesco arriverà per la prima volta a Trieste e per la città si tratterà dunque del ritorno di un pontefice a 32 anni di distanza da quella primavera del 1992 che vide Giovanni Paolo II dal 30 aprile al 3 maggio in Regione. Continuando sempre sul messaggero Veneto, sofferente ma lucido, leggiamo, porterà nel nord-est un messaggio di pace. Come detto queste sono le parole di Moraglia, patriarca di Venezia e presidente della conferenza episcopale del Triveneto che reduce appunto di una visita in Vaticano con gli altri vescovi e dice il Papa ci ha sostenuti e confortati. Vediamo anche qui l'immagine del patriarca in visita proprio al Papa di Francesco dunque Moraglia. Una gioia ha detto poterlo avere per tre volte in poco tempo in queste terre per i credenti, triplice evento di grazia. E ovviamente anche qui ci sono ancora varie informazioni in questa pagina rispetto al percorso del Papa nelle varie località coinvolte, rispetto ovviamente a quelli che si presumono i riflessi per quanto riguarda anche le attività, anche la sicurezza e le bonifiche delle varie aeree a parte delle forze dell'ordine. Continuiamo però sempre sul messaggero Veneto, ovviamente si fa presente la situazione internazionale, Gaza Sud, leggiamo Israele, ritira le truppe e poi ovviamente approfondimenti anche sul fronte nazionale, ma noi ci addentriamo in particolare di nuovo sulle notizie riguardanti il territorio regionale. Procediamo dunque in questa edizione di Udine del Messaggero Veneto, qui comunque ci sono per l'attualità anche i lavori del Consiglio regionale in primo piano. Nuova legge su turismo, imprese e sistema sanitario, leggiamo, presentata la norma Onnibus del centro-destra, sarà in aula a fine mese. Il testo interviene anche su finanze, enti locali e servizi idrici regionali. A Friuli Venezia Giulia Plus potrà costituire Società Ex Novo per raggiungere i propri scopi statutari, leggiamo, e poi nel caso di eventi eccezionali l'Ausir ridurrà i costi di gestione e le tariffe. Allora leggiamo qualche parola in più di questo articolo di Mattia Pertoldi. La nuova legge Onnibus del centro-destra è pronta dunque alla Prodo in aula per la sua approvazione nelle sedute del 23 e 24 aprile, probabilmente anche in quelle del 29 e 30 dello stesso mese, così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo. I temi affrontati, come spiega il nome stesso della norma, sono i più svariati. A Friuli Venezia Giulia Plus, ad esempio, si concederà non soltanto di partecipare all'acquisizione di rami d'azienda, ma anche di costituire Società Ex Novo. Una volta varata la legge, proseguendo, gli incentivi all'insediamento delle imprese potranno essere concessi nell'intera area montana, considerata la soppressione del riferimento alle zone B e C di svantaggio socio-economico. Quanto agli alberghi diffusi, si prevede che il limite minimo di posti letto di legge, già sceso a 60 dei precedenti 80, possa essere raggiunto entro i prossimi tre anni, mentre in materia di impianti fotovoltaici sulle coperture delle aziende agricole, la norma stabilisce anche che anche i costi di rimozione dei tetti su cui non verranno posizionati i pannelli potranno essere ammessi a contributo nel caso in cui almeno la metà di questi sia comunque collocata su superficie di amianto oppure fibrocemento. Quindi tanti aspetti che saranno compresi in questa norma omnibus del centro-destra, quindi albergo diffuso, privato accreditato, ex capoluoghi di provincia, ritornano i direttori generali, leggiamo, tra le novità principali inseriti in legge, c'è quelle che consentirà ai comuni, già capoluogo delle quattro ex province, che il centro-destra conta di far rinascere modificando lo statuto d'autonomia, la figura del direttore generale, così come previsto fino al 2014 e poi cancellato con l'addio agli enti intermedi e l'approvazione della legge che ha istituito le UTI. Poi, in Taglio Basso, a Trieste, in commissione, si discute la proposta anche sul fine vita. Il Friuli Venezia Giulia è chiamato a esprimersi su questa importante tematica. nella seduta di domani la terza commissione del Consiglio regionale, competente in materia di sanità, esaminerà dunque, metterà ai voti la proposta di legge regionale Liberi Subito, formulata dall'Associazione Coscioni, che, forte di 8.000 firme raccolte, chiede procedure e tempi certi nell'applicazione della sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, la cosiddetta sentenza cappato. Ancora sul messaggero Veneto, il dibutto a Montecitorio della fanfara della Brigata Giulia, con successo, un successo oltre le aspettative, leggiamo nel titolo, per l'esibizione dei musicisti alpini ieri alla Camera dei Deputati. Allora vediamo assieme anche queste immagini relative a quanto avvenuto. E poi, continuando sempre sul messaggero, appunto per quanto riguarda nello specifico Udine, raddoppia il parcheggio al Parco del Cormor, salve le piante di pregio. Investimento da 970.000 euro per passare da 57 a 113 posti auto. Sarà illuminato con luci a LED e riqualificata la collinetta antistante l'ingresso. Dunque il Parco del Cormor, scrive Alessandro Cesare, cambierà volto. O meglio, lo farà l'ingresso al Parco e nello specifico l'area della sosta. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale infatti dato il via libera al progetto esecutivo dell'opera, adeguando nel quadro normativo rispetto a qualche mese fa. Nel complesso saranno investiti 970.000 euro e tra i nuovi capitoli di spesa ci sono anche poco più di 2.000 euro per la verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area oggetto dei lavori. I posti auto a disposizione dei frequentatori del parco raddoppieranno, si spiega, passando da 57 a 113. Un progetto immaginato dalla scorsa amministrazione, poi ripreso in mano dall'assessore Ivano Marchiol, che ha provveduto dunque ad aggiornarlo, a cominciare dal numero di posteggi scesi dagli iniziali 193 a 113. E vediamo anche l'immagine del vice sindaco Alessandro Venanzi che spiega è necessario, perché quello del Cormor è il parco più grande della città e come tale va garantita un'accessibilità adeguata. Vediamo un'immagine appunto relativa al parco, due immagini. A sinistra l'area del parco del Cormor come oggi e a destra, quindi con questi parcheggi, come saranno, come è prevista appunto la realizzazione con questi nuovi posti. Continuando sempre in merito a Udine, andiamo a vedere anche questo dato, 740 alberi nei quartieri della città saranno piantati tra l'autunno e l'inverno, pubblicato il bando da 303 mila euro. E qui c'è un elenco anche con la specie, le varietà, la località e la quantità di queste specie che saranno piantate appunto nei vari quartieri. 69 alberi nell'area verde dietro al terminal studenti che sarà abbellita con 13 specie di piante differenti. 47 alberature ombreggeranno invece via dello sport, scrive Christian Seu, mentre in via Guarnerio d'Artegna svetteranno 34 storaci americani, il cui fogliame ricorda quello degli aceri. Il Comune dunque accelera sulla piantumazione di nuovi alberi in città. Nei giorni scorsi sulla piattaforma elettronica degli appalti della regione è stato pubblicato il bando di gara da oltre 303 mila euro per individuare l'azienda che dovrà fornire le 740 piante destinate a strade, piazze, area verdi del centro e anche dei quartieri. Si tratta del secondo lotto dell'ampio piano di intervento previsto dall'amministrazione comunale che con questa doppia azione metterà a dimora complessivamente 1.100 nuovi alberi. Qui vediamo appunto l'immagine dell'assessore al verde pubblico Ivano Marchiole che spiega anche qui nell'articolo le piantumazioni stradali saranno programmate in autunno secondo i corretti tempi biologici. Continuando sempre nell'edizione di Udine del Messaggero Veneto il titolo che vediamo riguarda Lampi che ricorda la strage di via Spalato. Sono stati commemorati 29 partigiani uccisi dai nazisti a 20 giorni dalla liberazione. Difendiamo i valori della Costituzione è stato precezzato. Vediamo le immagini di questa commemorazione organizzata da Lampi in via Spalato, gli interventi appunto delle varie autorità dei rappresentanti dell'Ampi e come scrive Viviana Zamarian nell'articolo insomma il ricordo della strage di via Spalato diventa memoria collettiva che si traduce in una difesa dei principi della Costituzione, la memoria che si fa appello contro la guerra e che diventa sprone per costruire un futuro di pace. Il ricordo è la memoria dei 29 partigiani fucilati dai nazisti al carcere di Udine il 9 aprile 1945. 22 giorni dopo Udine sarà liberata e il sindaco nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale Giovanni Cosattini nel pomeriggio accoglierà le truppe inglesi e neozelandesi che entreranno in città da Viale Venezia. Un ecidio come ha ricordato ieri Franco Corleone garante dei diritti dei detenuti per quanto riguarda il comune di Udine intervenuto appunto tra le varie autorità. Un bicidio commesso per la voglia irrefrenabile di odio, vendetta, violenza cieca e brutale da parte appunto di chi aveva come motto afferma viva la muerte per la rabbia, per la sconfilta di un sogno imperiale. Ma ovviamente ci sono state tante riflessioni si è rilanciato dunque come scritto un messaggio di pace. E poi anche l'immagine del primo cittadino Alberto Felice Detoni che ha affermato la nostra oggi è una battaglia di difesa dei valori di democrazia, di pluralità, di giustizia e di inclusione. Proseguiamo e andiamo a vedere questo titolo riguardante Efren Cosmacini, l'addio a Cosmacini, padre dell'istituto Kennedy. Cosmacini è mancato all'età di 77 anni e considerato il papà dell'istituto Kennedy di Udine. Il suo cuore si è fermato nella sua casa dopo l'acquirsi di una patologia dalla quale soffriva del tempo. Il professionista dunque aveva fondato negli anni 70 il Kennedy, uno dei primi istituti scolastici paritari in Italia e Udine, in cui proponeva recupero di anni scolastici per i vari indirizzi degli istituti superiori. Domani sono previsti i funerali, domani alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Viale Cadore. Di tutto l'altro trenore è il titolo che vediamo sempre in questa pagina. Si parla qui di un evento vivace e allegro che ha animato le vie della città, il raduno delle Vespa, tra storia e passione, uno sciame di soci alla scoperta ieri del Friuli. Ieri l'edizione numero 16 organizzata dal club di Udine. Il vice sindaco ha detto evento di valenza turistica identitaria. Vediamo questa bella immagine dei Vespisti che sono partiti da Via Gemona. C'è stato il taglio del lastro dunque con il vice sindaco Venanzi e il presidente del Vespa Club Udine, Chiara Mida. Ancora, Patri dal Friuli, la difesa di un'identità, i temi della scuola e della lingua al centro delle celebrazioni a Tarcento per i 947 anni dalla nascita dello stato patriarcale friulano. Una cascata di aquile gialle, una profusione di fasce tricolori, scrive Alessandra Ceschia, indossate da sindaci e rappresentanti delle istituzioni nell'aria, i discorsi pronunciati in marilenghi in un serrato programma di canti e danze tramandati dalla tradizione. Manifestazioni che alla 47esima edizione della Fiesta di Patria dal Friuli, che la comunità di Tarcento dunque ha colto ieri con calore e affetto e si sono intrecciate ad appelli e dichiarazioni di intenti, pregni di significato. Ovviamente ci sono stati vari momenti, vediamo queste belle immagini rispetto ai festeggiamenti, anche al passaggio di consegni fra Capriva e Tarcento all'ex cinema Margherita e di alcuni momenti della Festa della Patria a Tarcento dunque. Continuiamo e per la cronaca ci spostiamo a Venzone. Esce di casa ma non fa ritorno, 83enne ritrovato vivo dopo ore. L'uomo era caduto in un bosco vicino alla sua abitazione e non riusciva ad alzarsi. Alle ricerche hanno partecipato tre unità cinofile in zona per una esercitazione. Si parla di quest'uomo dunque che era uscito di casa per una passeggiata sabato, poco dopo le 17, non aveva fatto rientro e così in serata i familiari avevano lanciato l'allarme ed erano scattate le ricerche di questo 83enne. Per fortuna è stato dunque ritrovato alcune ore dopo dai soccorritori, dunque era caduto e non riusciva ad alzarsi, era caduto vicino alla sua abitazione. Per il territorio comunale di Chiusaforte si parla di un incendio divampato a 1200 metri con gli elicotteri in azione a fuoco 5 ettari di bosco. Un incendio divampato sul monte Plana Nizza, leggiamo, poco dopo le 12.30 di ieri tra Chiusaforte e Moggio Dinesi. Ha deneggiato dunque 5 ettari di bosco di pino, una colonna di fumo che si è alzata facendo dunque scattare la richiesta di soccorso da parte di alcuni residenti. Abbiamo visto il richiamo nel titolo su questa protesta per la tassa, il richiamo nella prima pagina scusate con questo titolo sulla protesta per la tassa sulla pioggia, dunque approfondiamo l'iniziativa. In poche ore sono state raccolte oltre 200 firme, questo riguarda il territorio del Gemonese, l'iniziativa anzi avviata dal comitato a Treppo Grande per chiedere la modifica del piano del consorzio. L'hanno chiamata la tassa sulla pioggia, scrive Alessandra Cieschia, e pur di fermarla hanno costituito questo comitato che ieri è sceso in piazza a Treppo Grande avviando una raccolta firme. Oltre 200 le persone che incapa poco più di un paio d'ore hanno sottoscritto la petizione che sarà consegnata in regione, una raccolta che continuerà nei prossimi giorni estendendosi su nuovi territori, quello di buia in primis. Oggetto del contendere sono gli avvisi di pagamento notificati dall'Agenzia delle Entrate per conto del consorzio bonifica pianura fiurlana, che ha ampliato la platea dei contribuenti, salita di 3.400 unità rispetto alle precedenti 73.000 utenze sulla base del nuovo piano di classifica che coinvolge 84 municipalità. Per il Tolmezzino un'altra scossa con epicentro in Carnia, un'altra scossa di magnitudo 2.3 della scala Richter. Nuovo risveglio con il terremoto in Valtramontina in Carnia, le prime luci dell'alba di domenica, alle 5.27 una scossa di magnitudo 2.3 si è sviluppata nella stessa zona di numerosi eventi degli ultimi giorni. Infatti dallo scorso 27 marzo si ricorda che non accenna a placarsi lo sciame sismico a cavallo tra il monte Resta e il confine con il comune di Sochieve. Qui a 5 chilometri dal capoluogo di Tramonti di sopra la terra ha nuovamente tremato creando il solito cupo tonfo che precede la scossa vera e propria. Vista l'intensità minore rispetto alle precedenti e l'orario ancora seminotturno, l'episodio di domenica mattina è stato percepito solo da una parte della popolazione e anche in questo caso, come detto, c'è chi ha udito un vuoto provenire dalle profondità del sottosuolo seguito dal tintinio dei lampadari, bicchieri, oggetti appoggiati agli scaffali. Questo quanto riferisce appunto al messaggero veneto. Per Tavagnacco esce di strada e poi aggredisce un carabiniere arrestata una persona. È finito fuori strada e ha pensato bene, si spiega, di lasciare l'auto sul luogo dell'incidente allontanandosi a piedi e quando è stato raggiunto dai carabinieri della radiomobile di Udine e della stazione di Tricesimo ha dato in escandescenza colpendo con un calcio alla faccia un militare. Ma finita, ma che, si scrive ancora sul messaggero, all'arrivo di una volante della polizia, giunta in ausilio proprio ai carabinieri, ha aggredito pure un agente. Ha finito così nella cella di sicurezza della caserma di Viale Trieste a Udine, la sua notte, un 29enne di Paolauro, protagonista del movimentato episodio, accaduto poco prima dell'alba di ieri a Tavagnacco, lungo la strada statale. In questa pagina, in taglio basso, anche questa fotografia riguardante questa area con questi tulepani a Rive d'Arcano che hanno attirato numerosissime persone per una foto, per un acquisto. In coda per un mazzo di fiori, il paradiso dei tulipani incanta centinaia di persone. In tanti hanno voluto visitare questa azienda di San Mauro, secchielli rossi e fotografie nella frazione dunque di Rive d'Arcano. Con questo titolo noi interrompiamo il nostro sfoglio perché è arrivato il momento del nostro secondo break pubblicitario. Avremo poi, nell'ultima parte della nostra rassegna stampa a due ospiti, come annunciato, il sindaco di Malborghetto Valbruna e anche il sindaco di Barcis. Restate con noi.